Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Non mi rassegno la rassegna stampa commentata di Italia che cambia che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti dal lunedì al venerdì vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo. Allora oggi è una puntata bella densa, non sono tantissimi argomenti ma sono argomenti molto densi perché parliamo di sicurezza alimentare in Italia, una sicurezza alimentare che sembra essere messa a rischio da alcuni fattori parliamo della crisi umanitaria in Sud Sudan collegata sempre al controllo delle risorse e alla sicurezza alimentare e parliamo del lancio di domani della capsula progettata da SpaceX e infine della nuova puntata di Matrix che andrà in onda stasera quindi seguitela tutta perché sono tutti argomenti in qualche modo collegati tra loro, non proprio tutti tutti ma insomma diciamo di sì. Partiamo dalla situazione della filiera alimentare qua in Italia perché secondo Coldiretti e lo riporta Green Report circa un terzo del raccolto di frutta estiva in Italia sta restando nei campi e fra l'altro raccolto che è produzione di frutta estiva che comunque era stata più bassa rispetto agli anni passati. Parliamo dei albicocche, ciliegie, pesche nettarine ma in realtà vediamo, vedremo insomma più avanti che è un fenomeno che si estende anche a tanti altri prodotti alimentari. Questa roba sembra essere il risultato di tre fattori principali. Il primo fattore è stata la crisi da coronavirus che ha causato uno sconvolgimento nel mercato alimentare perché tante attività sono rimaste chiuse, i ristoranti, cioè tutto il consumo fuori casa è rimasto bloccato, quindi i ristoranti ma anche alcune vendite al dettaglio. Quindi c'è stata una riduzione di un certo tipo di domanda che ha causato degli scompensi nel mercato. Il secondo fattore è stato un fattore climatico che invece ha inciso sulla produzione del cibo perché c'è stato un inverno molto poco piovoso a cui ha seguito una primavera che comunque non è riuscita a recuperare l'emergenza. Il terzo fattore è stato ed è la mancanza di lavoratori migranti con circa 370.000 lavoratori regolari che arrivano normalmente ogni anno dall'estero e forniscono il 27% del totale della mano d'opera che invece quest'anno mancano all'appello sempre per via della situazione. Quindi tutta questa cosa fa qua si sta traducendo in una carenza di alcuni prodotti sia perché appunto c'è stata una produzione minore sia perché parte di questa produzione è rimasta di fatto nei campi a marcire e di conseguenza anche in un aumento dei prezzi al consumo. Già adesso il prezzo della frutta segna un più 8,4%, quello della verdura un più 5% ma in realtà gli aumenti si ripercuotono a catena un po' su tutti i prodotti anche lavorati e quindi nella pratica su praticamente tutti i prodotti tant'è che dal latte, formaggi e salumi alla pasta, alla carne, al burro e così via si segnano aumenti praticamente su tutti i prodotti. Insomma il quadro non è proprio dei più rassicuranti anche perché se ci riflettiamo a questo aumento dei prezzi da un lato corrisponde dall'altro lato una diminuzione invece della capacità di acquisto perché c'è una crescita della disoccupazione e c'è una crisi di liquidità. Quindi in pratica le persone hanno meno soldi e i beni di prima necessità costano di più. Questo ovviamente ancora una volta ci può portare a riflettere su quanto sia rischioso avere filiere così lunghe per soddisfare le nostre necessità primarie come il cibo. Abbiamo lavoratori che arrivano da altri paesi per lavorare su campi che producono cibo che viene a sua volta trasportato in lungo e in largo per tutta l'Italia a volte anche all'estero venduto in pochi luoghi super affollati come i supermercati o le grandi catene di supermercati. Non è per niente resiliente perché è completamente fuori, ogni pezzo della filiera è completamente fuori dal nostro dominio. Il nostro dominio sia come individui sia come comunità. Mentre è molto importante che almeno per quanto riguarda i bisogni primari, quelli che ci servono per sopravvivere, quindi cibo, acqua, salute, energia, ecco che questi bisogni rientrino in buona parte all'interno del nostro dominio o come individui, quindi che ne so, mi faccio l'orto, autoproduco le cose, o come comunità, quindi per restare nell'esempio del cibo, possiamo pensare a modelli come le CSA, le Comunità di Supporto d'Agriculture e robe di quel genere là. Però è importante iniziare a costruire modelli di questo tipo qua. Questo non perché le filiere corte siano buone a prescindere o belle a prescindere, ad esempio è probabile che non abbia molto senso fare una filiera corta dei computer e che ogni comunità abbia la sua filiera di produzione di computer perché sarebbe uno spreco enorme di competenze, di risorse, di energia, di materie prima, eccetera, eccetera. Ma perché sulle necessità primarie, appunto, le filiere corte sono intrinsecamente più sicure. Va bene, restiamo in tema, però ci spostiamo dall'Italia, andiamo appunto nel Sud Sudan, perché nemmeno le filiere corte in realtà ci mettono a riparo da eventi estremi, come ad esempio le alluvioni. Nel Sudan del Sud, che è lo stato più giovane al mondo, le alluvioni del 2019 hanno causato delle carestie senza precedenti, che oggi stanno a loro volta causando una specie di guerra fratricida e scontri fra etnie diverse per il controllo delle risorse e il controllo del cibo. È una situazione veramente drammatica. Le violenze sono iniziate il 16 maggio, quando uomini armati hanno attaccato la città di Pieri e alcuni villaggi abitati dall'etnia Lownuer. E in due soli giorni di guerra e saccheggio ci sono stati interi villaggi che sono stati dati alle fiamme, bruciati, e poi dopo ovviamente gli scontri e le vendette sono proseguiti e stanno proseguendo tuttora. E a fare le spese sono soprattutto donne e bambini, e quindi i bambini soprattutto che sono gli individui più fragili all'interno di questa situazione. Questo dramma, che è appunto un dramma immenso, ci ribadisce un altro concetto fondamentale, ovvero come sia estremamente importante darci delle forme organizzative che siano collaborative, soprattutto in momenti di crisi e di scarsità di risorse come quello che stiamo vivendo attualmente, perché sennò il rischio è che al primo evento catastrofico, al primo momento, appunto, al primo evento che rompe gli equilibri del sistema si sprofondi in un'anarchia in cui vige la legge del più forte. Quando le risorse diminuiscono, se non abbiamo già delle leggi, delle regole fra di noi per capire come distribuirci meno risorse appunto e rischi che poi questa roba diventi una sorta di guerra fratricida. Va bene, siamo ucciti dall'Italia, adesso usciamo proprio dal pianeta, perché andiamo direttamente nello spazio. Domani sarà una giornata a suo modo storica, perché ci sarà il primo lancio in orbita di astronauti statunitensi dal territorio amoricano dopo nove anni. L'ultimo era stato nel 2011, anno in cui poi lo shuttle era stato mandato in pensione per i troppi incidenti e le troppe spese che la NASA, l'agenzia spaziale governativa americana, doveva sostenere. Questo nuovo lancio però ha una differenza abbastanza sostanziale, perché questa volta sarà una navetta spaziale privata, o meglio, nata da una partnership pubblico-privata, a trasportare gli astronauti, e per l'esattezza sarà la capsula riutilizzabile Crew Dragon prodotta dalla SpaceX di Elon Musk. Elon Musk che è riuscito a portare la sua capsula sulla stessa piattaforma di Cape Carnival in Florida da cui partivano le missioni Apollo e lo stesso shuttle. Il lancio, quello di domani, servirà a trasportare gli astronauti Doug Arley e Bob Behnken nella stazione spaziale. Negli ultimi anni, appunto, in questi ultimi nove anni, in realtà, gli astronauti americani sfruttavano dei passaggi, fra virgolette, da parte della Russia, perché non c'era più lo shuttle che li poteva portare sulla stazione spaziale. E questa volta, appunto, sarà la prima volta che ci sarà una navicella americana che tornerà a portare gli astronauti americani. E resteranno sulla stazione spaziale almeno un mesetto. Ma più che altro, l'evento di domani, a cui parteciperà anche Donald Trump, è considerato storico, non tanto per l'evento in sé, ma perché è inteso un po' come sia un passo verso l'obiettivo della NASA di portare entro il 2024 la prima donna e il prossimo uomo sulla Luna, sia un passo anche verso qualcosa che apre una nuova frontiera dei viaggi spaziali, un'evoluzione della tecnologia in direzione anche di voli commerciali, stazioni spaziali private e magari anche un turismo di massa spaziale. So che può fare un po' ridere, anche perché io non so, mi immagino subito il ferragosto passato a mettere il telo da mare sulle spiagge lunari, non lo so, mi fa molto ridere questa cosa. Comunque, a parte gli scherzi, questo tipo di viaggio è solo, fra l'altro, un filone dell'azienda SpaceX di Musk che ha come altri due sottoprogetti principali Starlink, ovvero sarebbe la costruzione già iniziata di una rete di circa 12.000 satelliti destinate a garantire collegamenti internet ultraveloci ovunque nel mondo. Questo è il progetto di Starlink. E l'altro progetto, invece, forse il più famoso, Starship, ovvero la colonizzazione di Marte. Poi, almeno, questi sono gli obiettivi dichiarati. Spesso Musk sembra aver utilizzato progetti e piani molto roboanti per sviluppare in realtà tecnologie che servono qua sulla Terra. Però, chi lo sa, è difficile leggere nella mente delle persone, almeno finché non avremo il Neuralink, che è l'altro progetto di Musk di cui parlavo qualche giorno fa. Tra l'altro, a proposito, magari stavo pensando martedì prossimo di fare la puntata speciale dedicata a Neuralink e a quel tipo di tecnologia là, quindi collegamenti neurali fra uomo e macchina. Ma, per concludere questa puntata, visto che già ormai abbiamo superato i 10 minuti anche oggi, diciamo che la riflessione che mi viene da fare è che, di sicuro, per quanto possono essere affascinanti le prospettive dei viaggi interplanetari, abbiamo forse giusto un paio di questioni un po' più urgenti da risolvere da queste parti. Quindi, sì, a occhio e croce direi che forse è più urgente concentrarsi su quello che possiamo fare su questo pianeta per continuare a renderlo abitabile, prima di pensare a colonizzarne un altro. Va bene, ci avviamo alla conclusione, ma prima di chiudere la puntata vi ricordo che oggi è martedì e, come ogni martedì, arriva puntuale la nuova puntata di Matrix e dentro di noi il format di Daniel Tarozzi che stasera avrà ospite niente po' di meno che suo padre, che però non è intervistato nelle vesti di padre di Daniel, ma perché Giancarlo Tarozzi, appunto il padre di Daniel, oltre ad avere questa grossa responsabilità nei confronti del mondo di aver contribuito a dare alla luce dell'inventore d'Italia che cambia, si occupa da moltissimi anni di spiritualità, culture native, percorsi di crescita, consapevolezza, identità e questo genere di cose. Quindi, scherzi a parte, non perdetevi la puntata di stasera perché sono sicuro che sarà interessantissima, come tutte le puntate di Matrix. Va bene, io con 12 minuti e 40, quindi 2 minuti e passo sopra la soglia consentitemi, vi saluto e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di un mi rassegno sempre le 10, sempre per 10 minuti e vi ricordo, come ogni giorno, che chi si rassegna è per tutto. A domani, ciao!